Un progetto di alternanza scuola-lavoro per avvicinare gli studenti delle scuole superiori al mondo del lavoro. La Confesercenti, in collaborazione con gli ordini dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, ha siglato un accordo con l'Istituto Leopoldo Pilla di Campobasso. Abbiamo così strutturato e inventato questa metodologia e domani ci sarà questa giornata particolare insieme alla Confesercenti, dove mettiamo stretto contatto il ragazzo con l'azienda, ma non solo il discorso di andare a fare alternanza scuola-lavoro, come si fa in tutte le scuole e quello che è poi previsto dalla legge, ma domani ci saranno dei colloqui, i ragazzi avranno modo di presentarsi alle aziende, quindi proprio il vero e proprio colloquio di lavoro per farsi conoscere e presentare il proprio curriculum. 12 aziende molisane sono pronte, attraverso questo progetto, ad impiegare gli studenti nei percorsi di tirocinio nei settori del turismo, dell'agricoltura e dei servizi. Il progetto è attivato per la prima volta a livello nazionale in Molise. Un primo modello sperimentale che noi come Assoturismo Nazionale abbiamo deciso fare proprio in Molise. Un modello è una modalità per indicare che proprio dalla più piccola delle regioni italiane possa partire questo circuito che seguiremo poi anche in altre regioni per far incontrare le imprese con i giovani candidati. Vogliamo azzerare i tanti filtri che molto spesso impediscono ai giovani studenti o anche ai nitti cosiddetti giovani che non lavorano e non studiano di avere la possibilità di incontrare direttamente le imprese in una delle sedi più comuni che sono quelle delle scuole. Noi subiamo la riforma.